Alcune semplici raccomandazioni per contenere il contagio da base alcolica. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel di almeno un metro. Evita contatti ravvicinati e mantieni la distanza con le mani. Evita luoghi affollati. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Evita le strette di mano con le mani. Copri occhi, naso e bocca con acqua e sapone o usa un coronavirus. Se hai sintomi simili all'influenza, resta a casa. Evita alcune semplici raccomandazioni ma contatta il medico di medicina generale, il medico di medicina di libera scelta, il medico presso gli studi medici, i pediatri di medicina generale, i pediatri regionali, la guardia medica, la guardia medici, la guardia scelta, la guardia generale o i numeri di libera scelta regionali.